Una Pasquetta all'insegna della cultura grazie a castelli, musei e parchi archeologici che resteranno aperti anche nella giornata di oggi, permettendo la fruizione di collezioni, mostre e itinerari archeologici. Una scelta della Direzione regionale Musei Puglia che ha voluto andare incontro alla maggior disponibilità di tempo libero da parte dei visitatori. Siamo convinti che anche quest'anno il fascino delle mete culturali della nostra regione trascinerà in Puglia numerosi turisti, ha dichiarato Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei Puglia. Siamo felici di accoglierli nei nostri siti aperti per l'occasione, anche grazie alla consueta disponibilità del personale addetto ad accoglienza, fruizione e vigilanza dei luoghi della cultura. Tra i siti che sarà possibile visitare nella giornata di oggi, Castel del Monte, Castello Svevo di Trani, Castello Svevo di Bari, la Galleria Nazionale della Puglia Devanna di Bitonto, l'Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, il Museo archeologico nazionale di Canosa di Puglia e quello di Gioia del Colle, nonché il Parco archeologico di Monte Sannace, il Castello Carlo V di Lecce e di Copertino, il Museo Nazionale Iatta di Ruvo, il Museo archeologico nazionale di Altamura. Infine il Parco archeologico e il Museo archeologico di Agnazia.